Buongiorno a tutti i cavalloni, siamo qua per iniziare questa operazione nuova di Jowl E vediamo come... che cazzo... Toscana? Ok Wow Milano, casa mia Il duomo è un po' piccolino, eh Ma perché cazzo si chiama Jowl? Jowl, se è italiana Perché? Ma poi non sembra italiana, sembra più... Tipo iraniana, cosi ma bellini Ok, vediamo come si controlla Jowl Grazie, dice Beh, non mi piace come... Cosa è sta roba? Che razza di pistola è? Perché non spara niente? Raga, non sta sparando niente questa pistola Fatemela provare su un passante così a caso Ah, ok Spara solo ai nemici? Va bene Andiamo Uh Boh, vediamo com'è sta Jowl Mi fa già strano chiamarla Jowl quando è italiana La chiamerò... com'è che si chiama? Ah, grazie a bellini? Bellini comunque Come... la roba da bere L'alcolico Sì, sono un alcolizzato Un alcolizzato gay Perché è molto gay come cosa da bere Non bevete il bellini Perché veramente la beve... Mia mamma Non lo so Però sì, in effetti la beveva mia mamma il bellini L'avevo fatto provare un'altra E ha detto Uh, cos'è sta figata, eh Al che ho capito che dovevo smettere di bere il bellini Perché... Già Ok Insomma, rivelamento Rilevamento, scusa Eeeh... Cos'è? Quel coso lì davanti? Speraggiamo sta roba Va bene Entro nel covo Umberto Cosima, scusate Cosima si chiama Porco zio Cosima Concetta la chiamavano La dovevano chiamare Concetta Ok 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 Mamma mia Gli stereotipi Perdonami bella Però è fashion È super fashion In effetti Anche se non mi piace tanto l'outfit Eeeh Di Jules Ora come ora Però è abbastanza fashion C'ha pure gli occhiali da sole Boh, vedete voi Ok Devo andare di qua Però non suona Non suona come una toscana Cioè non c'è cosa più Più fantastica Di una toscana Che parla Che parla in inglese È una cosa Esilarante Eeeh Solitamente Non sono qua a fare campanilismo Oppure sì Non lo so Oh che cazzo era Wow Che figata Raggio laser Quest'arma Quando l'arma laser di Jules Infligge danni in modo continuativo Si carica E inflige sempre più danni Figata Finchè non raggiunge il limite massimo Laser ha anche maggiori probabilità Di infliggere vulnerabilità ai nemici Ma è una figata questa roba Ma raga Ma scherziamo Ma è bellissimo Ok bello Vieni Si dice papà Non si dice papà Cioè Ok Raga va bene gli stereotipi Hanno sempre fatto ridere tutti Però Mamma mia Ma quindi io vado Così tranqui Nel laboratorio Non c'è nessuno Posso uccidere qualcuno Vi fate uccidere qualcuno Vi prego Pro zio Scusami Allora Abilità speciale Vita di eccessi La cadenza di tiro Della torretta Aumenta temporaneamente Ah ok Posso schierare Una torretta Con quadrato Ok Ok Papa Papa I don't need you Holding my hand For every fight After this long With mayhem I think I'm alright On my own Sorry I don't understand Please repeat Right These turrets Look like your turrets Papa If you're currently Being fired upon By turrets I said These look like Your turrets Va bene Non ho ben capito L'abilità speciale Di Jowl Ma va bene Usiamo il mayhem Cos'è che fa? Oh è una super torretta Ma è fichissima Oh mio dio È fichissima Oh yes baby Andiamo Via via E mi ha anche Dabbato Ma cioè Così a random Bellissimo Non so se mi Merda Hai detto merda Questo è un gioco Per ragazzini Sì l'ha già usata La super turretta Allora Super torretta Che mette un forte impulso Infliggente destabilizzazione E danni nemici Ma guarisce La sua torretta di base Va bene Per combattere Legion A Milano No vi prego Ambientatelo a Milano Il prossimo gioco Ah posso anche curare La torretta così Ma che storia E mi segue? No vabbè Non mi segue Ok Rimane fissa in un punto Però comunque Fico Scusa me Madonna Ok Andiamo So cannone Dobbiamo distruggerlo subito Bella Madonna Se dice ancora una volta Scusami Con quel tono Da idiota Porco il cazzo Il fastidio Bella Yes Level 2 Fai creparci Tizia ninja Oh lol Ok All me è pronto raga Posso uccidere tutti Grazie Grazie Pappa Prego Pappa Where are you For your mother And my security I can tell no one Our location Not even you Bella Just know we are safe And are thinking of you always Ti amo Ti amo Ti amo Papa Ma non si dice ti amo Non si dice ti amo al papà Ma non è vero Ma porca puttana Ma perché dobbiamo sempre fare la figura degli stronzi Con il resto del mondo Perché dobbiamo fare questa figura di coglioni con tutto il resto del mondo Ma perché Ma porco zio Voglio vedere se facevano una roba del genere con la cazzo di tizia Di inviare i ragnanti Cioè Qualcun Vaffanculo Avete capito cosa intendo Lol Va bene abbiamo sbloccato giù la almeno Non so se usarla onestamente Non so se usarla magari Magari la uso al posto di rama Non lo so Però mi è utile rama Per uccidere tipo i cecchini E le cose del genere No la verità è che dovrevo usarla al posto di Daisy Ma Non sono contento di usarla al posto di Daisy Wow che cazzo volete voi Ma che cazzo ma scherziamo Ma che palle raga No la specializzazione sbloccata Muoricci Stronza Ok Andiamocene Bene ho sbloccato giù la e non so se mi piace Così tanto Cioè più che altro non so se mi piace Abbastanza per cambiarla con un altro Agente Mayhem Voi che dite Non Ma si dai cambiamola Cambiamola con Non lo so raga Non lo so Cosa cazzo dovrei cambiarla Questo coso lo devo distruggere tra l'altro Io lo sto catteggiando qua ma Non mi ricordo se Yes Dove distruggere anche il camion Ok Distrutto Bella Allora Vediamo un po' il menu Vediamo un po' le missioni che ho Operazione dimensioni ninja Ok potrei farla Oppure fare i contratti No i contratti sono quelli online Braddock Ok Sembra una roba Fica Però Kingpin Ok E' un tizio Nero che va bene Ghiaccio in gabbia Yeti Demone e volpe Forza contro il virus Non lo so raga Non so Cosa Cosa usare Onestamente Eeeh Pa 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 Vabbè 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 Vediamo intanto Nel inventario Cosa Cosa ho di nuovo Tecnologie legion Cos'è sta roba Cioè si carica più lentamente Ancora più lentamente Di come Di come Di come è adesso Ma scherzi Va bene Inventario Niente Non c'è un cazzo di nuovo Ci sono sempre le solite minchiate Eeeh Non lo so ragazzi Non so veramente che fare Se switcharla con rama Oppure no Eeeh Perché poi se ci sono i cecchini O robe del genere Mi Mi Cioè Me la piglio Me la piglio in culo Da solo No facciamo questa operazione Qua ninja Qua Intanto facciamo così E non prendiamo Jul Anche perché Parla in un modo Veramente troppo irritante Per le mie orecchie Italiane Va bene Capisco che è un gioco Tutto 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 Di 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 stereotipi Tutto di Ah 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 Però minchia Troppo Troppo raga Cioè Veramente troppo Operazione Dimensione ninja Agent There have been a number of legion weapons around the city That appear to be emitting large quantities of dark matter It is imperative that these weapons are destroyed before legion is able to use them Va bene Wow baby No cioè Fortune non la cambio Ma neanche per Per tutto l'oro del mondo Che mi spezza troppo Daisy è E' simpatica Però non mi piace molto L'abilità che ha Cioè Il punto è che Daisy è una grande E la voglio La voglio in squadra Perché mi fa ridere Però La sua abilità A me Non è sta gran figata Lol Ma mi volete seriamente uccidere così voi? Yes Mayhem baby Boom 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 bitch Dov'è che sono gli altri Lol Qua Morti malissimo eh Oh cazzo Sfonda quella roba Lol ciao Oh mio dio me ne vado Forse è meglio Well It blew up Should I be worried about my exposure to this much dark matter? You'll be fire Way ninja Zucca Ok Ok Andiamo Nel prossimo obiettivo Oh Avevo la macchina bloccata Oh yes Perché non ho premuto il freno a mano? È un po' strana la cosa in effetti Che non ci avevo mai pensato Che il freno a mano è sul Sulla X Invece che sul quadrato E il turbo è sul 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 quadrato invece che c'è C'è Ci sono il turbo e Il freno a mano Invertito Insomma Poche parole Poi non mi so esprimere Perché Parole sono Tipici Ok Ah no Questo era uno dei loro Ok Va bene Allora me ne vado Ehm Dove vado? Ok di qua Oh Fa un culo Ma io dove cazzo Sta andando Ti va Allerta Legion Ma che palle Solo perché ho investito Un po' di pedoni Così a caso Poi che cazzo Ve ne frega dei pedoni A voi Legion Dai smettetela Ok Adesso cosa faccio? Spondo la roba Fatto Va bene Va bene C'era zade Chi è c'era zade? Mi sono perso C'era zade? C'era zade Nuovo gadget Per Joule Nuovo gadget Per Joule Nuovo gadget Per Joule Ah 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 Guarda un po' Cazzo Non me l'aspettavo Proprio Fammi andare Oh shit Che cazzo Ma sei pazzo? Ma ero qui Che mi facevo Gli affari miei Per una volta? Dai Dimensioni ninja Non capisco il titolo Il nome di questa Ok ninja C'era zade Ok Beh in effetti Hai molte opzioni C'era zade Dai perché Non le fate dire Allak Bar Allak Bar Oppure Isis A questa qui Oh mio dio Ho detto Isis in un video Di youtube Adesso Mi Mi Banneranno Insomma È una ninja Bene Ok è brimstone, è così formale, significa che posso chiedere a te con il tuo nome? sicuramente potete, se potete capire cosa è vedo che hai messo una destinazione sui miei, vuoi mi raccontare? o dovremmo farlo come una sorpresa? come già sai, la legion's ministra di prigione è attivata in tutto il città, e mi spero che abbiamo solo scattato la superficie di loro planche diaboliche molto bene Persephone oh che figo il salto ninja e c'è la bomba fumogena ok guarda chi è venuto a incontrare i nostri figli arma, le bambine cosa sono le bambine? c'è la sua attacca con la sua spada prediletta, realizzando una combo di tre colpi, fico quando usa la mira di precisione però preferisce lanciare i suoi pugnali ah, fico dove sono? oh mio dio ok, le bambine colpi puoi usare oltre a sferire nel colmo di colpi puoi usare R3 per sferrare un attacco di teletrasporto mentre TNL2 inizierà a lanciare i suoi coltè what? what? cosa che... what? no scusate oh teletrasporto ma sul serio? ma sul serio? ok va bene molto fico vediamo i pugnali no, fa cagare vediamo se fanno danno un pochino di danno lo fanno, dai non troppo ma... un pochino ah, pure sta stronza mi lancia i pugnali eh dai hop ok, è un po' un casino da controllare come personaggio ma... è fichissima comunque cioè il concept è fichissimo bravo mi vedi stronzo? facciamo che muori no, questa è fichissima fa un danno della madonna con quella spada ok, dove devo andare? qua fa un danno della madonna, cioè nel senso... se non fosse... ma dove cazzo mi mandi? qua o di là? qua? ok 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 abilità speciale lame accecanti forgiati in tibet da una donna con tre dita what? questi coltelli mistici infliggono cecità a un massimo di tre nemici boh fico ma fichissimo bello utile teleport baby sono qua dietro no, è fichissima è fichissima da usare sto personaggio oh teleport ciao boom bomba fumagena boom sparisco di qua boom me ne vado? ciao ti sparo i coltelli magari ti ammazzo così? lol tu che cazzo vuoi? morire immagino questi sono accecati? no, questo no questo era un ninja mayhem cosa fa? no, lo proviamo dopo quando mi dirà di provarlo lol ok, niente, proviamolo ha divento super... oh mio dio oh mio dio ma che figo divento invisibile e faccio un botto di danno oh cazzo no, perfetto yes ecco, tutto finito avevi divertito, figli? mi credo che hai il tuo amulet puoi cercare il rift non mi lascio a casa senza non mi lascio a casa non mi prendi tu fuori in un'altra sicura hm ho indicazioni che un altro rift ha appena appena in una città ho sentito la locazione mentre sei qui ho una storia per te oh? ok ok ovviamente shirazade mi racconta le mille e una notte vabbè mmmm ci sta, ci sta ciao 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 ciao